una buona serata e benvenuti a questo quinto numero di Vista sul Golfo la rubrica settimanale di Teleuniverso che vuole fare un focus settimanalmente sulle principali problematiche, prospettive anche di sviluppo del Sud Pontino io lo ringrazio Vista l'ora e la sua presenza qui nei nostri studi è veramente importante do una buona serata al presidente di Acqua Latina S.P.A. all'avvocato Giuseppe Addessi buonasera presidente, grazie per la sua disponibilità e la sua presenza buonasera a lei e a telespettatori era una trasmissione che volevamo fare subito chiariamo questa sera non parleremo del futuro di Acqua Latina della ripubblicizzazione non parleremo della futura governance dell'ente gestore appunto che si occupa del sistema idrico e della depurazione in provincia di Latina e in alcuni comuni della provincia di Roma e anche di Frosinone ma questa sera l'avvocato Addessi è giunto ai nostri studi per parlare per fare il punto su una questione che sta ancora un po' monopolizzando le cronache giornalistiche perché quello quello del 2016 è stato veramente un anno orribilissimo per quanto riguarda la questione l'emergenza idrica nel sud pontino un'emergenza idrica che perdura nonostante oggi è il 3 di novembre Presidente io le faccio subito una battuta ho fatto un computo delle email arrivate quest'anno a me alla redazione di Telo Universo il 40% di tutte le email è del vostro ufficio di comunicazione che comunica ha comunicato e comunica ancora di tanto in tanto ci sono dei problemi per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico del sud pontino un bel record di cui forse non bisognerebbe essere fieri mi lasci dire per prima cosa l'aspetto positivo il nostro servizio di comunicazione funziona quindi vediamo positivo anche se vediamo il bicchiere diciamo mezzo pieno era solo una battuta perché rimanere d'estate senza acqua con il sud pontino pieno di turisti io capisco e mi rendo perfettamente conto che una eventualità che sarebbe meglio evitare che sarebbe potuta essere evitata però purtroppo quest'anno alla carenza idrica che noi diciamo di carattere storico che noi abbiamo sempre avuto nel sud pontino si è anche aggiunto questa seccità questo evento di carattere straordinario che non si riferificava da oltre 4 anni per cui le scarsissime precipitazioni hanno fatto sì che le falde delle nostre sorgenti soprattutto principalmente soprattutto Capodacolo e Mazzocco Mazzocco si riducessero per cui ecco che c'è stata questa purtroppo diciamo crisi idrica che tuttora persiste perché la siccità non accenna ad abbandonare il nostro territorio in quanto i dati pluviometrici ci danno ancora oggi che è 3 novembre una carenza che diciamo produce l'acqua nei nostri pozzi è sotto le falde di guardia per cui noi ancora adesso soprattutto di notte in questo momento siamo costretti a interrompere i flussi per far sì che i serbatoi si ricaricano e almeno la mattina alle prime luci dell'alba quando i cittadini cominciano a usare in maniera più pressante l'acqua almeno hanno l'acqua per la base ecco lei correttamente dice noi stiamo facendo il nostro diciamo operato la nostra azione istituzionale sul territorio che lei ha sintetizzato in 5 punti un rafforzamento delle squadre tecniche un'accelerazione degli interventi di riparazione delle perdite su strada questo è un problema di cui ci occuperemo nella seconda parte della trasmissione il posizionamento di numerosi autobotti con mezzi sostitutivi manovre di regolazione della pressione notturna ne parlava con Gansi e poi una costante informazione io la utilizzavo a modo di battuta nelle mie premesse a favore delle istituzioni e degli utenti ma mi lasci la provocazione è tutta colpa di Giove Pluvio che non piove no non è tutta colpa la carenza idrica diciamo il fattore climatico chiamiamolo così è stata la causa scatenante di tutti i disagi però noi la carenza idrica ce l'abbiamo da almeno 10 anni nel sud pontino anzi se lei mi permette io vorrei fare sebbene in maniera sintetica una storia di questo problema che purtroppo attanaglia diciamo la parte più meridionale del lato diciamo da Itri in giù fino a Suvio Castelforte e Mintorro Acqua Latina fin dal proprio costituzione individuò nella carenza idrica del sud pontino uno dei principali problemi anche perché gli acquedotti e le tubature dell'acqua di questa zona sono le più vetuste dell'intero ambito territoriale ottimale abbiamo a Formia a Gheta ancora tubature di origine romana anche diciamo borbonica quelle più recenti con tutto quello che comporta la dispersione fisica cioè sono tubi molto vecchi che perdono e che quindi non consentono quella portata che noi riusciamo a demungere dai nostri pozzi quindi già nel 2003-2004 appena poco tempo dopo costituzione Acqua Latina Acqua Latina si fece carico di questo problema e iniziò a programmare una serie di interventi che erano limitati in quel momento alla diciamo riparazione delle dispersioni fisiche tenga presente che noi abbiamo circa 300 km di condutture idriche in questa parte del territorio da idri in giù e aveva fatto aveva elaborato un piano che prevedeva una parziale e graduale riduzione di queste perdite fisiche idriche che avrebbero consentito un recupero di alcuni litri al secondo capace di mantenere in ogni caso la pressione per alimentare i serbatoi perché la gente deve sapere che l'acqua non arriva al rubinetto dalla tubatura l'acqua dai nostri pozzi arriva a un serbatoio molto grosso ce ne sono svariate nella provincia e per caduta da questo serbatoio poi confluisce quindi se non carichiamo i serbatoi l'acqua comunque non arriva certo che succede che questo piano è stato cominciato ad essere attuato sono stati spesi dei soldi io non voglio tediare i cittadini con le cifre ma almeno 7-8 milioni su questo piano vendero spesi dopo di che nel 2012 mentre questo piano stava per essere anche implementato attraverso anche la ipotesi di individuazione di ulteriori zone dove fare pozzi perché Mazzocco e Capodacqua erano già state ritenute del tutto insufficienti per alimentare questi serbatoi ci fu il problema dell'arsenico al nord della provincia al nord della provincia per cui la conferenza dei sindici nell'ambito dello spirito mutualistico che ha innalato nel senso che con i soldi di tutti cerchiamo di intervenire prioritariamente dove ci sono situazioni più necessarie la conferenza dei sindici giustamente a mio parere ritenne che il problema dell'arsenico era più pregiudiziale era più urgente anche sotto l'aspetto anche igienico-sanitario assolutamente si parlava di tumori c'era l'istituto della superiore della sanità che ci imponeva di stare sotto alcuni limiti per cui la conferenza dei sindici nel 2012 se non ricordo male decise di concentrare la massima parte degli investimenti sul problema dell'arsenico e qui parlo del nord della provincia parlo di Aprilia parlo di Cori parlo di Cisterna parlo di Anzio dove c'era effettivamente la problematica e queste risorse furono diciamo da investire sul problema dell'arsenico vennero spostate a nord della provincia a nord della provincia con un slittamento non è che vennero tolte per risolvere il problema aspettate in attesa facciamo prima no 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 furono slittate in avanti dovevano essere previste nel 2012 2013 vennero previste nel 2016 2017 perché quei soldi servivano risolto il problema dell'arsenico succede la prima grave crisi idrica che questa qua poi è la seconda perché lo dobbiamo anche dire ai cittadini che forse se lo sono dimenticati nel 2012 c'è stata una crisi idrica che non è stata come questa che è stata veramente drammatica ma che comunque rifece a rinascere il problema di proseguire e di implementare quegli investimenti che erano stati slittati a causa dell'arsenico in quell'occasione con l'ato con la provincia che è la capofila dell'ato furono fatti un nuovo piano che implementava quello che era stato spostato aggiungeva maggiori risorse erano circa 18 milioni di euro ripeto io non voglio dettiare quei numeri ma lo dico più o meno così tanto sono documenti pubblici consultabili da lato e consultabili da noi di questi 18 milioni 11 erano a carico della tariffa di acqua latina e c'erano anche 7 milioni che era stato richiesto un finanziamento alla regione Lazio perché siccome la crisi idrica del sud puntino era una crisi importante era giusto che anche la regione Lazio anche per accelerare perché se avessimo dovuto mettere noi 18 milioni avremmo avuto un tempo maggiore per eseguire gli investimenti se la regione fosse intervenuta avremmo avuto un tempo minore perché avremmo avuto sub di fondi e questo implementamento prevedeva oltre alla diciamo riqualificazione di Marzoccolo e Capodacqua che sono le fonti principali oltre all'ulteriore implementazione del recupero di espressioni fisiche quindi con un'accelerazione del recupero dell'acqua che perdevamo le immagini tanto è pubblico noi ammungiamo 100 litri d'acqua in rete ne vanno 30 70 si perdono si perdono perché le tubature sono vecchie e sono rotte già prevedevamo in questo piano del 2013 l'individuazione di almeno altre due località dove fare altri pozzi in più era anche previsto in questo piano del 2012 il 2013 il possibile riutilizzo di due pozzi che ancora ci stanno e che sono che stanno a Minturno che stanno a Castelforte che però noi li abbiamo chiusi perché ci avevano erano interessati anche quei pozzi al problema dell'arsenico un fenomeno minimale rispetto a Cisterna ma comunque esistente e li dovevamo chiudere perché non serviva allora era prevista l'implementazione nel 2013 del ricopro delle perdite era previsto la possibilità le prove per cercare di riutilizzare i pozzi di Minturno ed era previsto anche l'ipotesi di in qualche modo ne faccio una domanda perché dobbiamo correre mi conferma questo dato che è un dato di settembre di quest'anno cioè di due mesi fa che in rete vanno circa 95 litri al secondo in meno rispetto allo stesso mese del 2015 Presidente adesso abbiamo il dato più certo è questo noi abbiamo bisogno di recuperare 70-80 litri al secondo per garantire rispetto a quelli che abbiamo adesso per garantire una pressione ottimale però questo sembra a parità di fattore climatico perché se dovessimo avere un fattore climatico identico a quello di quest'anno io dico persistente esatto che si potrebbe anche aggravare perché poi io leggo anche il giornale non sono un esperto meteorologo ma si va verso una desertificazione di idro eccetera quindi io devo aver paura che questo dato di quest'anno addirittura peggiori e quindi se non raggiungiamo un recupero di 60-70-80 litri al secondo se non piove diciamo che torniamo nella normalità io non faccio il meteorologo però conoscendo un po' il territorio del sud pontino io dico pure oltre che a non piovere più Presidente Adessi non nevica più perché poi le nostre montagne i monterungi sono montagne importanti quando nevica per poi conservare appunto l'acqua per la fagione più calda assolutamente è vero anche questo è vero anche questo allora io le faccio una considerazione il ruolo dei sintesi perché tutti danno la croce addosso ad Acqua Latina io dico Acqua Latina ci avrà anche le sue responsabilità ma Acqua Latina lei è un gestore ma c'è un ente che si chiama Ato 4 sarebbe l'ambito territoriale ottimale di cui fanno parte i 33 comuni della provincia di Latina e altri comuni sia della provincia di Fresenone che della provincia di Roma questa mattina il sindaco di Gaeta ha riconvocato i colleghi primo cittadino per fare un buon punto della situazione perché poi molte responsabilità io lo dico senza problemi ce l'hanno anche i sindaci in una a volte programmazione che non è unitaria non è univoco eccetera sentiamo cosa ci hanno detto proprio i sindaci di Gaeta Cosmino Mitrano di Minturro di Gerardo Stefanelli e il sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo naturalmente hanno il dito puntato contro appunto Acqua Latina però si rendono pure conto nelle loro dichiarazioni che lei poi commenterà Presidente Adessi che probabilmente se il territorio soffre d'acqua e poi ovviamente perché non c'è stata una programmazione unitaria sentiamo con l'apporto della regia di Danilo Costanza due sono gli interventi che si possono fare o si cercano nuove sorgenti o si riducono le dispersioni quindi in questa fase credo che tutti e due i percorsi sono importanti loro devono immediatamente attivarsi attraverso uno studio per individuare nuove sorgenti perché questo problema della siccità credo che con gli anni peggiorerà e quindi tutti i cittadini le attività commerciali i turisti ovviamente non possono subire ogni estate questo grave danno che questo è un danno per la cittadinanza ma anche un grave danno d'immagine per lo sviluppo economico dei nostri territori quindi Acqua Latina deve immediatamente intervenire attraverso nuove sorgenti che possano dare nuove risorse idriche ai nostri al Golfo di Gaeta e devono immediatamente intensificare gli interventi sulle varie città del Golfo per ridurre le dispersioni che sono elevatissime sono pari al 70% quindi se si riducessero queste dispersioni ci sarebbe già un grande aiuto per le nostre popolazioni ma da un team di esperti di professionisti ci si aspettava una maggiore capacità di previsione della carenza idrica non è che bisogna aspettare il mese di luglio inoltrato per capire che le nostre popolazioni e i nostri territori avrebbero avuto delle enormi difficoltà nel mese di agosto questo è quello che imputiamo anche ad Acqua Latina quello di non aver avuto la capacità di prevedere il grado di carenza idrica poi per il resto è chiaro che adesso è importante variare subito il piano di investimenti e garantire ai nostri territori degli investimenti reali sulla riduzione delle perdite immediatamente o quantomeno prima della prossima estate occorre che i sindaci del sud pontino abbiano una voce unica forte per poter riportare sul nostro territorio quelle risorse che nel 2011 12 e 13 furono trasferite al nord della provincia per risolvere il problema dell'arsenico qui c'è anche un problema di allocazione delle risorse economiche per gli investimenti sui diversi parti del territorio provinciale la differenza dal presidente a dessi che risponde a delle logiche legittime di profitto in quanto anche se lui è il presidente espressione del capitale pubblico e la differenza che sta con noi sindaci che rappresentiamo il popolo il nostro popolo ha subito un disservizio e a fronte di questi disservizi io sto chiedendo con forza che vengono riconosciute dei sgravi all'interno delle bollette già dalle prossime che si emetteranno Acqualadina non può pensare di continuare a fare e a gestire in questo modo noi chiederemo e continueremo a chiedere la ripubblicizzazione nella sua interezza e nella ripubblicizzazione nell'immediato non dopo e continueremo a chiedere le dimissioni del management non entriamo nelle questioni societarie del nuovo management appunto di Acqua Latina probabilmente il Presidente Adessi ci verrà a trovare e rifaremo questa trasmissione sul futuro che sarà appunto dell'acqua in provincia di Latina voglio dirlo a beneficio dei nostri dei spettatori rispetto a quando ha detto il sindaco di Casseforte vogliamo uno sgravio delle bollette eccetera noi abbiamo già detto l'ho detto il Presidente Adessi l'ho detto anche dei nostri DG Acqua Latina voglio dire senza creare poi false aspettative non può praticamente effettuare alcuno sgravio qui c'è bisogno di una delibera di un'autorità che sta a Milano autorità nazionale per l'energia e per l'acqua se questo ente dovesse decidere il Presidente Adessi poi Acqua Latina per ricatuta deliberata riguardo lo dovremmo rispettare come commenta le dichiarazioni dei sindaci un po' duretto Stefanelli che peraltro è stato membro del CDA di Acqua Latina poi si è un po' corretto nella seconda parte della sua intervista dice la verità poi Stefanelli dice a questo punto facciamo un sintesi prima noi e poi Acqua Latina ci deve venire appresso o no? Stefanelli che proprio perché ha fatto parte del CDA ha fatto anche l'assessore all'ambiente nella provincia quindi conosce molto bene la problematica ed ha individuato quali rimedi i rimedi esatti che sono poi quelli che diceva Mitrana nel senso che l'individuazione di nuovi campi pozzo che peraltro io poi nel mio intervento precedente non ho finito ma noi li abbiamo già individuati abbiamo già gli studi ideologici saremmo pronti a partire per l'effettuazione ai 25 ponti di questi nuovi pozzi esenti da arsenico e che allieverebbero moltissimo diciamo la portata di Mazzoccolo che comunque va va implementata l'unica cosa che Stefanelli erra secondo me forse ricorda male è che noi come dicevo prima non ce lo siamo ricordati a luglio del 2016 della carenza idrica raccontavo prima la storia noi abbiamo fatto degli interventi e dei piani abbiamo sviluppato degli interventi e dei piani nel 2003 nel 2004 nel 2005 e poi nel 2003 non so se lui era ancora assessore era scusato noi facemmo quel piano che prevedeva quei 17 milioni di cui ho parlato prima di cui 11 a carico della tariffa e 7 a carico della regione di quegli 11 milioni che era solo a carico della tariffa con finanziamento gli 8 milioni li abbiamo spesi mancano i 7 milioni della regione ragazzi quindi lui dimentica che diciamo noi siamo intervenuti già in passato e abbiamo più volte segnalato poi se questa cosa non è stata fatta è importante che i cittadini sappiano che noi possiamo fare delle spese laddove la conferenza dei sindaci ci approva un piano degli interventi e siamo autorizzati perché poi quello è il problema ecco chi parla del ruolo della conferenza dei sindaci è l'ex presidente della provincia di Latina ex presidente del lato 4 è tornato a fare politica attiva da qualche mese è stato rieletto sindaco a Sperlonga Armando Cusani io e Giuseppe Miede l'altra sera abbiamo atteso la conclusione del consiglio comunale di Sperlonga abbiamo intervistato proprio l'ex presidente del lato 4 Cusani che senza peli sulla lingua naturalmente lancia strali nei confronti proprio dei colleghi sindaci non sanno decidere a suo dire e soprattutto in questo temporeggiare nelle decisioni a favore del sud fondino da parte del lato 4 naturalmente Armando Cusani punta il dito dritto dritto nei confronti della sua successore che è Eleonora della Penna sentiamo questa breve intervista del sindaco di Sperlonga la conferenza dei sindaci è completamente paralizzata bloccata non funziona di fatto non perché non si riunisca e non perché non viene convocata perché non produce atti concreti e non risolve le questioni che sono sul tappeto tra le quali la importante e gravissima crisi idrica del Golfo servono 900 litri al secondo per soddisfare le esigenze di acqua di 170.000 180.000 persone e ne arrivano poco più o poco meno di 600 litri al secondo bisogna fare degli investimenti sulle fonti su Mazzoccolo su Capodacqua dei nuovi pozzi sul 25 ponti e quindi è importante intervenire sul programma degli investimenti il programma degli investimenti è una delibera della conferenza dei sindaci non c'entra niente acqua latina la ripubblicizzazione le azioni e tutto il resto appresso che dicono alcuni sindaci è necessario fare questo atto e quindi noi prendiamo atto ecco apposta proprio il gioco di parole che c'è un blocco totale e sollecitiamo una decisione rapida in questo senso noi siamo pronti a votare anche un intervento importante di variazione del programma degli investimenti come facemmo allora con l'arsenico qualcuno sostiene ma negli anni in cui c'eri tu che coordinavi la conferenza dei sindaci che cosa è stato fatto per il golfo molto tant'è che la situazione è molto più grave se c'è una situazione gravissima ma non estremamente grave perché negli anni abbiamo fatto investimenti importanti bisogna fare di più e bisogna fare ancora e noi non siamo riusciti a farlo negli anni passati perché abbiamo dovuto rispondere all'emergenza arsenico quindi il problema non è chi coordina che ha anche le sue responsabilità perché non riesce a produrre decisioni insieme ai sindaci ma anche i colleghi sindaci che non riescono a trovare insieme delle soluzioni idonee per rispondere immediatamente a questa crisi gravissima in sostanza nel terzo millennio avere ancora comuni senza acqua e comunità senza acqua che soffrono la sete mi sembra una cosa veramente vergognosa lei per certi versi fa anche una velata critica ai suoi colleghi sindaci del Golfo che non riescono e qui è una mia considerazione di cui mi assumo la responsabilità a fare anche sintesi soprattutto a cercare di portare su un unico tavolo un'unica piattaforma sulla quale quel lato deve pronunciarsi ma qui sono delle responsabilità di governo gravissime il governo nazionale è a guida PD il governo regionale voglio partire da lontano è a guida PD il governo provinciale per quello che conto oggi la provincia è di fatto nelle mani del PD perché hanno ostaggio il sindaco di Cisterna il sindaco di Formia mi sembra un protagonista importante della vita politica provinciale e quindi loro hanno tutti gli strumenti per poter decidere per poter proporre per poter governare noi stiamo sollecitando delle azioni delle decisioni siamo pronti a votarle cioè qui siamo arrivati al paradosso che dobbiamo proporle noi ma lo faremo nei prossimi giorni perché anche nel sindaco di Gaeta ci siamo impegnati a mettere in campo una proposta per modificare il piano degli investimenti Presidente Adessi ha veramente pochissimo tempo a disposizione facendo un po' una esegesi di quando dice Armando Cusani se questo golfo avesse più peso politico probabilmente non soffrirebbe di sede neanche a novembre non ritengo che sia una questione politica se fossero più coesi sindaci perché poi come ho sempre detto l'acqua non è né di destra né di sinistra quindi non è un fatto ideologico l'acqua è diciamo la necessità di porre rimedio ai problemi dei cittadini con un servizio pubblico essenziale quindi dovrebbero essere coesi a cercare di risolvere i problemi al di là se di una di destra o di sinistra e penso che questa cosa qui andrebbe auspicata andrebbe perseguita perché poi lo ripeto peraltro come uomo del sud di questa coesione lei è tifosa assolutamente io vivo a Fondi l'emergenza di Fondi l'abbiamo subita parzialmente sì parzialmente però mi rendo conto io sono ho parenti amici a Formi a Mindur a Santi Cosme e Damiano me ne parlavano tutti i giorni ma non bisogna essere uno scienziato per capire voglio chiudere questa trasmissione anche questo intervento molto importante del Presidente dell'Acqua Latina parlando di questa emergenza delle perdite d'acqua veramente pochissimo tempo un minuto di disposizione siamo andati a Formi a meglio ci è andato il collega di H24 Francesco Furran con Giuseppe Miele nel quartiere di Rio Fresco Scacciagalline c'è una cascata praticamente a cielo aperto Presidente mi lascio la battuta non si paga neanche il biglietto sentiamo questa breve intervista 30 anni fa si sperimentava il sirlene il sirlene è quel materiale che oggi tutti noi utilizziamo che a quel tempo noi insieme con Peppino Schettino appunto che ci chiese di passare questa conduttura perché diversamente avremmo aspettato anni prima che lo facesse ovviamente il comune utilizzammo quello che allora era ovviamente il massimo che si trovava cioè un PN10 cioè un tubo che al massimo resisteva 10 atmosfere con l'aumentare appunto degli insediamenti ovviamente sono aumentate le atmosfere nei tubi questo tubo è cominciato chiaramente a saltare a creare sorgenti ogni 10 metri e questo lo avete documentato attraverso il visualizzare tutte le chiamiamole pezze messe sulla strada che stanno lì a significare centinaia di interventi se non altro decine e decine di interventi che in questi tempi Accolatina ha fatto in realtà 6 ma qui adesso si intrecciano due eventi intanto il fatto che hanno riasfaltato parte di via Pintime e quando io provai alla ditta a dire che forse non è il caso perché c'era questo tubo che andava in effetti e che aveva prodotto tutte quelle buche per cui poi si è deciso di riasfaltarlo se non si rimuoveva questo tubo e di lì a poco si sarebbe ricreata la stessa condizione vero è che pochi giorni dopo eccoli la prima sorgente riparata quella altri pochi giorni la seconda sorgente cioè quella strada che è appena stata asfaltata quel pezzo di strada appena asfaltato di fatti già c'ha di nuovo un certo numero di buche è una strada che ha tre mesi di vita quattro mesi di vita Presidente concludo con una battuta sempre sembra che sia materia da corto dei conti no no questo utente tutti i cittadini che abbono in quella zona hanno perfettamente ragione però mi consente anche a me una battuta questa è la prova provata dell'estrema verità dei nostri impianti Presidente possiamo sperare che l'estate del 2017 perché poi a quella dire si sta anche prudicando per migliorare la qualità dell'acqua del golfo sotto l'aspetto turistico non sia come quella del 2016 noi abbiamo lanciato questo anno Presidente mi perdoni molti turisti se ne sono letteralmente andati da Formia che è del minturno perché la mattina non riuscivano a farsi una doccia noi abbiamo lanciato un allarme in quella regione di Formia di cui lei faceva riferimento di cui parlavo della gasitrica e abbiamo detto che se la conferenza dei sindaci non autorizza quegli investimenti ovvero quelli che lei mi dice che il sindaco di Gaeta nella regione moderna ha proposto eccetera noi rischiamo veramente che nel 2017 siamo punti da capo quindi noi auspichiamo però che la gente deve sapere che noi abbiamo un piano degli investimenti che lo decide il proprietario degli impianti che sono i comuni ci devono autorizzare a fare questo dicendoci le risorse previste a via tot di Aquino che non c'entra niente vengono spostate nel sud Bondino se ce lo dico noi anzi siamo ben lieti di farlo ma se non ce lo dico non abbiamo gli strumenti giuridici per farlo bene io ringrazio il presidente di Acqua Latina l'avvocato Giuseppe Adessi ringrazio anche la collega Loretana Leccese che è la responsabile dell'ufficio stampa la portavoce appunto dell'ente gestore naturalmente vi rimando ai nostri social network per rivedervi anche la nostra trasmissione naturalmente vista sul golfo ringraziando anche chi mi ha assistito la parte tecnica appunto da Lino Costanzo torna puntuale fra sette giorni giovedì prossimo alle 22 qui sul Telo Universo grazie ancora presidente Adessi e arrivederci buonasera a tutti grazie a tutti